Nel bunker, se avete visto, ho fatto questo posizionamento, cerco di prendere posizione. Cosa vuol dire? Intanto sento con i piedi quanta sabbia ho, se ne ho tanta o se ne ho poca. E poi mi permette questa posizione qua di rimanere il più possibile ferma, perché qua nel bunker l'importante è rimanere con la parte inferiore del corpo ben ferma e ruotare più con la parte superiore. Allora, posiziono, stessa aperta, spalle aperte. Di solito in questi colpi qua si cerca di mirare leggermente un po' più di sinistra del bersaglio, proprio perché andrò a tagliare il colpo. La mia linea chiaramente sarà una linea leggermente esterna, che comunque seguirà la linea dei piedi, e finirò sempre su questa linea, per cui la mia sarà una linea in questa maniera. Un po' esterna. Va bene, cioè non sarà il classico colpo, un po' più rotondo, ma sarà proprio... Molto più verticale, ci dobbiamo imporre di prendere la sabbia prima della palla. Esatto. L'importante è rimanere appunto ben fermi sotto e immaginarsi di colpire un piccolo cuscinetto prima della palla, per prendere un po' di sabbia. C'è poca sabbia. In questo caso c'è poca sabbia. C'è poca. E chiaramente il mio bastone, in questo caso qua, rimbalzato, ha fatto bounce. Sì. La cosa... Sì. Sì.